Ben ritrovati cari amici e cari amiche lungo la via dei simboli e dopo questo periodo in cui io ho sospeso per motivi anche di natura tecnica proprio i video da condividere con voi ho pensato che alcuni eventi che sono capitati in questi ultimi giorni potevano essere interessanti per approfondire ancora alcuni aspetti del folklore e dell'immaginario del nostro immaginario popolare e mi riferisco come eventi al premio che è stato dato a draghi recentemente e che costa di una statuetta una statuetta molto particolare una sfera sormontata da una una coppia di corna o forse di ali e che è stata donata come onoreficenza come premio come personalità di spicco importante per questo anno e che però ha suscitato interesse di tanti appassionati di simboli perché si sono riconosciute dei segni delle delle cose dei riferimenti che sono state considerate piuttosto inquietanti continuo a dire che ci vuole molta prudenza e bisogna essere molto cauti nel trattare con i simboli perché la loro interpretazione può essere può essere erronea il simbolo va sempre contestualizzato va sempre correlato alla situazione in cui viene proposto certo è che chi lavora artisticamente conosce piuttosto bene il simbolo e se anche non lo conosce abbastanza come più volte ho detto poche il simbolo stesso scava nel nostro inconscio di fatto racconta da sé e ciò che è stato detto riguardo a questo manufatto a questo premio che è costituito di da un materiale che parrebbe essere cristallo perché quantomeno è un materiale cristallino trasparente e che è stato pur fotografato non rappresentato nei dettagli e di questo mi rammarico perché non riesco io stessa ad analizzarlo bene dalle pochissime foto che circolano in rete ecco ciò che è stato detto è prevalentemente di natura piuttosto oscura e beh come non come non comprendere questa sensazione in effetti siamo in presenza di una parte sferica di qualcosa che rimanda alla nostra interiorità ma anche al cosmo provvista di ciò che paiono corna corna caprine per questo che in vari articoli presenti sul web la statuetta è stata identificata come una rappresentazione del male o quantomeno un riferimento a culti e a raffigurazioni di natura diabolica mi è stato fatto addirittura un accostamento riguardo al baffometto templare tanto per intenderci perché non tutti sanno di che cosa si parli c'è una raffigurazione che ha cominciato a circolare tra le incisioni settecentesche ma che non vi è prova che ciò che viene chiamato come baffometto sia questa raffigurazione baffometto io sto parlando baffometto templare ne ho parlato più volte non ho raccontato e vi sono alcuni miei scritti che cercano di far luce chiarezza proprio su questo termine che è stato identificato come qualcosa di demoniaco solo dal braccio dell'inquisizione da coloro che che processarono gli appartenenti all'ordine del tempio che raccolsero le testimonianze che interpretarono al loro modo ma in realtà la raffigurazione di cui si parla e che si accosta a questo manufatto che è stato che è stato consegnato a mario draghi è proprio questa qui che vi faccio vedere questa è tratta da un libro di massimo centini molto molto interessante creature fantastiche fate folletti mostri e diavoli viaggio nella mitologia popolare in piemonte liguria e valle d'aosta un testo di massimo centini corredato di di a di varie illustrazioni e anche questa del baffometto quindi qualcuno l'ha rapportato al baffometto templare a l'adorazione del diavolo a un riferimento a culti demoniaci satanici però ripeto i simboli vanno sempre contestualizzati qui siamo in presenza di un riconoscimento che viene dato per l'eccellenza del lavoro svolto da parte di un rabbino capo quindi ogni rimando a quella statuetta ha probabilmente una natura ebraica o comunque una natura classica io continuo a dire che vedere la sfera sormontata da quelle due protuberanze che sono piuttosto particolari trovo anche riferimento con la dea niche con la vittoria con la dea fortuna un riferimento interessante perché comunque il premio il riconoscimento viene dato a una persona che ha compiuto secondo coloro che hanno dato appunto il riconoscimento ha compiuto un percorso che poi si è concluso con una vittoria lascio comunque ovviamente a chiunque di noi di considerarla o meno tale ma queste queste forme che escono fuori hanno comunque innegabilmente un riferimento anche a delle corna e quindi l'accostamento al diavolo è un accostamento che per natura umana è proprio semplice naturale perché nella nostra archetipica memoria che rimanda a ciò che siamo stati il collegamento tra corna e diavolo è ancora viva devo però specificare alcune cose che più volte ho raccontato quando ho trattato il tema delle eresie è stato compiuto un processo di demonizzazione di tutti quegli attributi che rimandavano a culti pagani quando la religione monoteista dominante era necessario che prendesse piede e che sostituisse proprio questi culti anche qui bisogna andarci cauti perché non sempre nella tradizione popolare del folklore è così e a volte si prendono dei grossi abbagli quando si vuole a tutti i costi collegare dei simboli di natura pagana a luoghi religiosi del cristianesimo tuttavia vi sono elementi elementi e sono elementi ben documentati che attestano che vi è stata fin dal medioevo la volontà di non tanto eradicare ma inglobare e nascondere tutte quelle radici pagane del territorio che erano ancora vive perché la tradizione popolare continuava a ritualizzare per questo addirittura fu vietato e si sta parlando di alto medioevo ma anche di basso medioevo quindi si sta parlando di un periodo molto 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 lungo in cui si vietò addirittura con delle norme rigide e delle azioni non solo sanzionatorie ma anche proprio fisiche ben forti di porre degli altari ai penati ai lari agli avi come si usava nell'antica roma che ancora però si praticavano come rito e quindi si ponevano nei luoghi di campagna questo vuol dire che per oltre mille anni ha prevalso una è prevalso una cultura un'azione culturale che faceva riferimento alle religioni pagane e pur frequentando la nuova religione né le aree rurali nei pagus nei luoghi più lontani da santa romana ecclesia ancora si praticavano delle ritualità che avevano radici pagane e quindi faccio un esempio per tutto il medioevo era in uso porre delle teste di animale provviste di corna ovviamente mozzate a protezione delle stalle e questo ha rappresentato poi un atto di natura demoniaca ed è stato quindi considerato blasfemo è stato in seguito demonizzato e quindi il per quanto riguarda questo premio che è stato dato a draghi io trovo che forse c'è un riferimento legato proprio al materiale è legato proprio all'attributo ali o corna che si intenda sotto un certo aspetto come ali e quindi come vittoria oppure si intenda come corna quindi riferito all'ariete simbolo solare quindi la insegnare una persona di un di un titolo regale e solare qualcuno ha parlato addirittura della correlazione con le corna o le fiamme che si che parevano essere sulla testa di mosè quindi mosè come conduttore di un popolo quindi ci sono varie interpretazioni io mi fermerei invece a le cose più semplici siamo in presenza quindi di una scultura cristallina chiara non scalfibile indipendentemente dal fatto che sia veramente cristallo che sia resina è comunque una struttura trasparente liscia inscalfibile quindi viene dato questo riconoscimento a chi è così in scalfibile duraturo e al tempo stesso queste queste ali o queste corna che rappresentano il simbolo dell'ariete del capro del simbolo solare per eccellenza certo è che il nostro immaginario popolare rimanda a simboli provvisti di corna proprio al culto del diavolo e questo proprio perché la nostra tradizione ci ha in qualche maniera costretti a vederla a questo modo vorrei concludere questo breve video ricordando che all'apertura dei giochi 2022 a londra proprio in quel contesto vi è un'altra figura taurina che in qualche maniera viene rabbonita quindi vi è forse un rimando a un culto taurino riferito alla grande madre alla dea primigenia che in qualche maniera deve essere domesticata altrimenti torna ad essere il drago caotico delle origini e indomabile oppure vi è un riferimento addirittura astronomico ad un punto stellare ad una porta stellare mi vengono a mente le iadi ad esempio le grandi portatrici di pioggia secondo la civiltà egizia in ogni caso è sempre fondamentale contestualizzare un simbolo e soprattutto unire più simboli e correlarli ai momenti dell'anno ricordo che questo è un momento molto particolare ci avviciniamo a la festività della chiesa che riguarda san michele arcangelo ma che comunque ha una correlazione equinoziale molto molto importante e non trovo così strano che un premio sia stato di questo genere sia stato dato proprio in questo momento di fine estate che porta conduce verso l'autunno un caro saluto a tutti al prossimo video penso vi parlerò del libro del comando si pensa che sia una leggenda però scopriremo insieme che forse forse un libro di evocazione è esistito veramente se poi ha funzionato o meno io questo non so dirlo però perché ancora ha molto fascino parlare del libro del comando e in passato mi è stato chiesto di parlarne ecco la prossima volta vi racconterò qualche cosa riguardo a questo libro di evocazione questo leggendario libro di evocazione dei demoni e soprattutto del diavolo un caro saluto a tutti e al prossimo video